Ciao a tutti, oggi con Roby abbiamo deciso di fare una cosa diversa dal solito visto che ci accusiamo vicendevolmente di essere dei cellulari dipendenti oggi faremo il senza internet challenge, non so come si possa definire senza cellulari, mi correggono dalla regia sono le ore 11.41, la sfida durerà fino a stasera finché non andremo a dormire io andrò un po' prima di lei visto che domani mattina faccio il mattino al lavoro e quindi ci sarà da ridere sono le ore 11.59 ovvero 12 minuti inizia a mezzogiorno questa challenge no non è vero ti ho detto che è iniziata alle 11.41 no vabbè sì ovvero 18 minuti fino a mezzanotte dopo 18 minuti dopo l'inizio della nostra challenge siete d'accordo se lo schiaffeggio un pochino? perché se ne approfitta perché deve farsi il... spostati donna come passeranno i nostri eroi questa giornata senza internet? risa, morte, sangue, risenzia picchiandosi assassino e arriva pure l'altra cosa vuoi pure tu? facci capire anche te guarda che poi ti denunciano per maltrattamento sugli animali aiuta abbiamo deciso visto che è senza cellulari ma non senza internet infatti che mi sono sconfuso abbiamo deciso di iniziarci una serie tv su infinity ovvero iniziamo com'è che si chiama? dai Nara basta com'è che si chiama? the following the? following the? era un trucco era bello sentirti dire following wing vabbè no ok si è si è cambiato puoi vedere la maglia è un po' stronzo la maglia di natale mi sembrava un attimino eccessiva come cosa non sono io che ho messo la maglia di natale con l'unico giorno dove ci sono 47 gradi all'ombra che fai amore? io sto aspettando per vedere il film ma no l'abbiamo scelto insieme e lo vediamo insieme devo cambiare la maglia di natale devo cambiare la maglia di natale perché le parti basse quant'è che stai registrando? due minuti e 16 e ho detto che è strano che non arriva due minuti 18, 19, 20 sarà una lunga giornata che? fortuna sto soffrendo moltissimo ma in compenso ho finito di editare e messo in carica il vlog che ho fatto ieri ha quasi finito manca il 5% quindi proprio alla fine fine e così almeno voi vi vedrete il mio vlog su internet e io non potrò vedere un tubazzo di niente mi manca mi manca moltissimo un messaggio un messaggio voglio guardare posso? cioè guardatelo guarda il tecno potrebbe essere importante aiuta no no guarda l'amore metti che ok hai il lavoro vai 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 notare la faccia malefica zoomiamo su perché il primo che tocca il telefono dovrà effettuare una punizione dove vai staff? dove vai? no perdi la scommessa seguiamolo per sicurezza c'è da vedarsi via via ciao mi manchi mi manchi posso far finta di star bene ma mi manchi allora amore com'è guardare come sono venuti i vlog sul televisore non sul cellulare come è mangiare senza guardarti le tue serie del cavolo sul tuo cellulare? sto aspettando i cartoni delle due sono venuti i miei 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 mie allora mi sono fatta una doccia Riccardo è uscito e si è portato il telefono perché mi ha detto per sicurezza succede mai qualcosa e tutto però non mi ha ancora scritto quindi vuol dire che sta mantenendo la sua fedele promessa però adesso lo chiameremo insieme a tra l'altro parentesi non comprate questo mascara pessimo cioè l'ho messo giusto per vi sembra che dia volume a me non pare proprio non mi piace proprio comunque è questo qua Essence Volume Stylist Carl e Old mascara stavo guardando se c'è scritto altro o no questo ho fatto così non mi piace per niente non sembra neanche che l'ho messo fa le ciglia troppo fini a me piacciono un po' più voluminose cioè il volume non lo vedo sinceramente adesso lo chiamiamo insieme e vediamo perché appunto ci siamo detti la chiamata giusto per capire vediamo un po' no digitiamo uno addibitiamo la chiamata ma la chiusa cioè proprio non c'è speranza molto bene allora in questo caso gli farò uno squillo col telefono di casa eccolo eccolo Eila oi stai facendo fede la tua promessa va bene allora saluta le stelline perché sei in viva voce ciao stelline ciao stelline no ho detto vuoi ridere ho detto ho fatto tutta la figa adesso lo chiamo vediamo se sta facendo fede la sua promessa chiamo Vodafone credito insufficiente che figura di me ma mi hai fatto lo sfido eh sì ma con la debito di chiamata ma dai eh sì siamo qui abbiamo fatto tutti i giochini e devo toccare solo che il cielo inizia a essere sempre più nero eh infatti per carità e quindi è sempre che voglio portare fuori anche una luzza va bene facciamo la scappata saluta un attimo saluta che così chiudo il vlog buona serata a tutte buona serata a tutte comunque sto vincendo ma non è finito il video che buona serata ho detto solo saluta ciao 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 vi voglio bene ciao ciao vi voglio bene ciao ciao allora sto facendo una super mega volata con il computer perché ci siamo scordati di far poi la spesa e e dovendo ordinare parecchie casse d'acqua perché allattandomi mi servono come vi avrò mi pare già detto nel precedente vlog e sono contentissima perché hanno messo la promozione quindi se vi interessa magari c'è anche per voi non credo che sia solo per la mia città credo sia in generale non lo so andate a curiosare però mi dà che dal 23 maggio al 2 giugno se acquisti online ricevi subito uno sconto di 10 euro che non so se è valida su questa spesa o sulla prossima però vabbè in ogni caso utilizzerò lo sconto un'altra volta in caso insomma no la promozione è valida sugli acquisti online effettuati entro il 2 giugno quindi in teoria dovremmo essere a cavallo mi devo spicciare perché mi dà che si può avere la consegna alle ore 20 e quindi mi devo muovere con Roberta abbiamo deciso di anticipare alle 20 e 30 il riutilizzo del cellulare vi faccio vedere che ora si è fatta 19 e 37 perché ovviamente l'unico l'unico giorno dove non possiamo guardare il telefono stiamo ricevendo 20.000 messaggi mail squilli chi più ne ha chi più ne metta io alle 10 e mezza andrò a letto perché dopo la mattina la sveglia alle 4 e quindi faremo così e così potremmo rispondere al cellulare devo farla perdere già devo farla perdere tanto ti faccio perdere no non la posso inquadrare perché è in un momento particolare Alessandra sta mangiando ma tanto la faccio perdere no mancano gli ultimi 10 minuti 10 minuti e riepriamo i nostri telefoni e finalmente dovrò semplicemente farla perdere ancora 10 minuti per farla perdere tanto non perdono una persona sono dei due comunque stiamo guardando Rio 2 di nuovo sì l'ultima volta l'abbiamo visto è mille anni fa però merita ci piace Tiago Maria ascolta tua madre Tiago Maria tiago ma Grazie a tutti.